Il futuro è già arrivato anche sui sistemi ferroviari? Il futuro direi è già presente per vari motivi. Tecnologia e digitalizzazione sono già presenti sia sulla componente infrastrutture, sia sulla componente servizi ai passeggeri, la parte urbana e quello che riguarda le merci e la logistica. Quello che è inserito all'interno del nostro piano è continuare ad utilizzarli e farne leva fondamentale per fare in modo che sia sulla componente di sicurezza delle infrastrutture, il monitoraggio delle infrastrutture, il loro utilizzo flessibile, possa consentire la costruzione sempre più importante e orientata al cliente per servizi che possano essere quelli dei passeggeri o delle merci, visto che il piano prevede fra l'altro uno spostamento su rotaia consistente del trasporto merci in Italia dal 10% attuale al 20%. Grazie.